non ti posso dire, non ti posso dire niente io ringrazio tutti quelli che sono arrivati qua e il mio onore organizzato da questi due miei amici che manco conosco noi ci conosciamo da molto di vista niente, basta, è tutto lì è finito lì, no? ma è un grandissimo piacere questo, molto non ti immagini quanto piacere mi fa grazie a te io sto gocciolando sì, sì, anch'io mi lavorerò certo di me di me va bene facciamo un ultimo pezzo per salutare ti piace San Monza del Baul? no a richiesta parte lontana e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.